Amiche di unghie, allora ero in dubbio se caricare o no questo video, ma alla fine capirete il perché. Dunque, per fare la mia mano destra ho utilizzato le Dual Form e Acrygel, tutto di Beauty Space Nails. Le Dual sono le numero 07, sono quelle con l'apice un pochino più presente. Quindi vado a riempire tutte le Dual con uno strato molto sottile di Acrygel, perché questa sarà solamente la mia base, diciamo l'allungamento. E non arrivo neanche al giro cuticole con il prodotto, proprio perché dopo andrò ad incapsulare. Quindi una volta riempite tutte le Dual, sull'unghia naturale preparata vado con il Bonder e dopodiché con la HD Base Nailon, che appunto è una base elastica, arricchite con vitamine e fibre di nylon. Il nylon la rende molto elastica appunto. Ovviamente vado in lampada e poi comincio ad attaccare le Dual nella prima fase, insomma il primo passaggio, l'allungamento. Quindi vado a fare quello che facciamo sempre. Vado a dare il flash di luce, ovviamente sistemo il sotto, ero fuori dall'inquadratura, non l'avete visto, e poi vado in lampada grande. Tolgo le Dual e per andare ad attaccare tutti questi cuoricini utilizzo la Twin Coat. È una base top, questa funziona sia da base che da sigillante, e tra l'altro rimane lucidissimo. Ha una bellissima adesione questa base anche sull'unghia naturale. Comunque, senza andare in lampada, quindi con la base bagnata, vado ad attaccare tutti questi cuoricini così nel modo in cui mi piaceva di più. Per andare a terminare l'unghia, la struttura, e ovviamente incapsulare tutti i miei cuoricini, vado ad utilizzare Acry Gel Clear. Questa Acry Gel lo adoro perché è effettivamente clear. E secondo me il modo migliore per incapsulare è questo, utilizzando la Dual. E anche facendo molti meno movimenti di quelli che ho fatto io in questo video, perché appunto gli Acry Gel sono un pochino più propensi ad incapsulare aria quando si lavorano troppo. Un'altra cosa che voglio sottolineare, che quando ne ho l'occasione lo faccio sempre, è far notare quanto non siano appiccicosi questi Acry Gel. Vedete come riesco tranquillamente a togliere l'eccesso senza che rimanga appiccicato all'unghia, al bastoncino. Adoro questa cosa. Non solo il clear è così, ma anche tutte le altre colorazioni di questi Acry Gel nuovi di Beauty Space Nails sono fatti proprio in questo modo. Non sono appiccicosi, filamentosi e insomma secondo me è un bel vantaggio. Quindi ovviamente sistemo la Dual, mando in lampada e dopodiché vado a togliere la Dual e qui vi faccio vedere quanto è trasparente. Lo faccio anche nelle altre dita, ovviamente poi vado a limare e il motivo per cui non volevo caricare il video è perché il video finisce qua. Mi sono dimenticata di registrare la parte finale dove facevo vedere il risultato terminato. Quindi questo è ciao!